C'è un progetto da parte di Antonello Di Cerbo che punta sul Tanagro, in particolare la comunità di San Rufo. Non può un consigliere regionale non porre la sua attenzione verso quella zona? Assolutamente no. Ovviamente io in campagna elettorale, uno delle gambe della mia campagna elettorale è lo sport e penso che è impossibile non conoscere San Rufo. Questa struttura sono andato circa 20 anni fa e nasce da un'idea, da una visione del compianto senatore Enrico Quaranta che aveva immaginato la capitale del sud come sport dove non il comune ovviamente di San Rufo o Polla ma il Golfo di Policastro, il Cilento e tutto il Vallo di Diano potessero usufruire di questa struttura che onestamente, che è nata verso i fine anni 70-80, poi c'è stato pure il terremoto, quindi ha avuto una serie di disgrazie però effettivamente l'idea era geniale, quella di fornire una struttura a servizio dei vari comuni del comprensorio. L'onorevole Quaranta era un socialista, lei si candida con i socialista, ha già una visione per il futuro per poter riprendere e rivalorizzarla? Questa è una cosa meravigliosa io penso, dovrò sicuramente coinvolgere anche il nostro segretario nazionale perché da quell'idea socialista nasce anche, come ho detto prima, una visione di intendere lo sport come servizi sul territorio al di là della ricerca del campione a tutti i costi, della medaglia olimpica, quell'idea nasce per offrire servizi ai territori effettivamente dopo un periodo di difficoltà il centro sportivo San Rufo, che poi fa parte del consorzio sport del Bacino 3 oggi ha ripreso a vivere, oggi da un po' di anni, grazie a Metasport che è un'associazione dilettantistica che gestisce gli spazi quando sono andato a trovarli l'altro giorno c'erano bambini che facevano nuoto, c'erano bambini che facevano colonie estive molto molto bello e poi abbiamo scoperto, anche se non è ancora stato inaugurato via del Covid, il museo dello sport con delle testimonianze storiche dello sport che sono veramente interessanti Le diceva, uno come me che mette il progetto sport all'interno del suo programma non può è obbligatorio il passaggio per San Rufo e ci sono già delle idee, delle immagini che le girano in testa per l'orizzonte che coinvolge anche il mondo della ginnastica Secondo me per completare quella struttura bisogna attenzionare perché non riprendono i lavori sulla foresteria perché lì con circa 120 posti letto si possono ospitare anche i ritiri perché lì puoi fare il calcio, puoi fare l'atletica leggera, puoi fare il nuoto, puoi fare il tennis, il calcio a 5, c'è tutto cioè se qualcuno pensa che il centro San Rufo è morto, è abbandonato, non è assolutamente così il centro San Rufo vive grazie a questi giovani ragazzi che hanno preso la gestione qualche anno fa bisogna completare la foresteria e poi ho io un'idea particolare perché ho sempre una passione nel cuore